Buongiorno e bentornati a Medicina 33, arteriopatria ostruttiva, ovvero le arterie indurite non permettono al sangue di fluire adeguatamente. Un incubo per chi soffre di diabete perché può preludere all'amputazione. Oggi però per salvare gli arti esiste una nuova terapia a base di cellule staminali. E poi palpebre superiori cadente oppure entropion, ovvero la palpebra inferiore rivolta all'interno o l'ectropion, la palpebra inferiore rivolta all'esterno. Un problema che riguarda soprattutto le persone anziane e un problema non soltanto di tipo estetico ma anche di tipo funzionale. Allora come possiamo intervenire? Di questo parliamo con il nostro ospite in studio di oggi che è il dottor Danilo Mazzacane. Buongiorno. Dottore. Oculista, azienda ospedaliera di Melegnano e Pavia e segretario generale della Società Scientifica Nazionale Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi. Ma subito un trattamento di cellule staminali ottenuto dal circolo sanguigno e non prelevate dal midollo. Vediamo come sia possibile in questo modo per molti pazienti salvare un arto. Sentiamo Gianluca Vatti, poi torniamo in studio. Si chiama ischemia critica cronica degli arti inferiori ed è il punto di non ritorno a cui arrivano parte dei malati di arteriopatia ostruttiva causata dal diabete. I pazienti che presentano questa malattia corrono il rischio dell'amputazione dell'arto. Quando questa ischemia viene diagnosticata precocemente l'intervento chirurgico può ripristinare una corretta circolazione ma in molti casi tali interventi, salvarto, non possono essere eseguiti. Questo gruppo di malati intrattabili ha solo un'alternativa sottoporsi al trattamento con le cellule staminali non necessariamente prelevate dal midollo osseo ma ottenute dal circolo sanguigno. Una tecnica sofisticata messa a punto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Medicina di Firenze. La terapia con le cellule staminali è in grado di offrire un'opzione alternativa di salvataggio d'arto che è veramente importante in pazienti di estrema gravità. Per ora quasi il 70% dei pazienti trattati ha ottenuto risultati favorevoli. Le cellule vengono ottenute attraverso la separazione da un grosso prelievo di sangue periferico circolante re-iniettate dopo la separazione con tecnica immunomagnetica nel muscolo gastrocnemio dell'arto interessato dall'ischemia critica cronica. Benissimo, veramente una tecnica molto interessante. Allora, dottore, noi invece parliamo di queste palpebre superiori cadenti oppure quelle inferiori rivolte all'interno o all'esterno che è un problema comune a molti anziani. Sono tanti gli anziani che si rivolgono a voi? Sicuramente la durata maggiore della vita dà luogo a problematiche come queste che prima non erano presenti e possono condizionare la buona visione del paziente anziano e quindi spetta a noi oculisti ambulatoriali e territoriali che siamo la prima linea atti a rispondere alle richieste di salute dei cittadini valutare dal punto di vista clinico e indirizzarli a risolvere nel miglior modo possibile per avere la migliore qualità di visione. Certo, allora, questo diceva che tipo di problemi agli occhi possono dare queste problematiche che quindi non sono soltanto un problema di tipo estetico seppure sono abbastanza sgredevoli? Problemi di tipo funzionale possiamo averli nell'entropion l'introflessione della palpebra all'interno le ciglia vanno in qualche modo a provocare un danno non solo un fastidio a carico della congiuntiva e della cornea la cornea è l'organo più vascolarizzato del corpo umano ed è quello che deve essere trasparente per avere la visione queste alterazioni possono andare a processi infiammatori e infettivi conosciuti come cheratiti e quindi produrre dei danni visivi non indifferenti nel processo di eversione abbiamo un'esposizione della palpebra inferiore che non è più aderente alla mucosa congiuntivale con processi di cheratizzazione ed infezioni ricordo che la palpebra è un organo deputato alla difesa del bulbo oculare e contribuisce con l'ammiccamento alla stratificazione del film lacrimale che contiene anche l'isozima che ha azione antisettica certo quindi è fondamentale per quello che riguarda invece l'aptosi cioè quando la palpebra superiore va proprio in avanti che problemi può causare invece quella a parte quelli estetici perché molti fanno la blefaroplastica sappiamo allora la blefarocalasi è un abbassamento bilaterale delle palpebre per l'assità dei tessuti e produce un danno funzionale quando arriva a ricoprire parzialmente o totalmente la pupilla con una riduzione del campo visivo l'aptosi è un abbassamento della palpebra che può indurre un'ambliopia, può indurre l'astigmatismo può indurre alterazioni specialmente se è congenita poi dipende quando si manifesta nelle varietà della vita e se può essere connessa con altre manifestazioni specialmente di tipo neurologico quindi la valutazione clinica è fondamentale prima di questi interventi certo senta come si può intervenire allora? cerchiamo di capire questo per la maggior parte dei casi differenze sulla blefarocalsi entropion ectropion diciamo che fondamentalmente la correzione è più di tipo chirurgico nell'entropion ci può essere una correzione diciamo artigianale con un cerotto applicato sulla palpebra inferiore che tiri verso il barzo evitando che le ciglia congreggano all'interno però diciamo è temporanea è temporanea anche l'uso di una lente terapeutica può salvaguardare la cornea però si tratta di soluzioni tampone tampone certo quella chirurgica è sicuramente quella risolutiva che elimina i fastidi e i danni come abbiamo detto che possono derivare da questa alterazione dinamica delle palpebre anche per quando la palpebra inferiore è in fuori bisogna avere una soluzione tipo chirurgico? sicuramente sì perché l'eversione della palpebra inferiore con il puntino lacrimare inferiore è da origine all'epifora cioè alla mancata convogliamento delle lacrime nel canale e dei dotto naso lacrimare quindi danno una lacrimazione continua che non solo dà fastidio ma produce anche una macerazione e un'infiammazione del bulbo oculare del sacco congiuntivare ecco e quindi insomma bisogna intervenire a livello chirurgico sostanzialmente ma sono degli interventi molto impegnativi perché se lo deve fare una persona anziana magari sicuramente trattandosi di una persona anziana che magari ha pluripatologie occorre una valutazione sicuramente attenta per valutare le problematiche delle patologie concomitanti i farmaci che il paziente assume se siano anticoagulanti se il paziente è diabetico e quindi un quadro generale sicuramente indispensabile per questioni di sicurezza e l'intervento poi viene eseguito normalmente in anestesia locale al massimo si può usare un blando sedativo però insomma non è che è impegnativo in modo particolare però bisogna capire magari la situazione l'importante è che lo faccia chi lo sa fare beh ovviamente ultima domanda rapidamente sono interventi che vengono effettuati in regime di servizio sanitario nazionale? quelli che producono un danno di tipo funzionale sicuramente sì però in entrambi i casi la sicurezza sicuramente è d'obbligo è d'obbligo grazie grazie mille dottore a questo punto il nostro secondo